La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica Partito Europea, sta eseguendo un'operazione antiterrorismo condotta dalla DIGOS della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti gravemente iniziati di appartenere ad un'associazione con finalità di terrorismo di matrice di nazista, suprematista e negazionista, sedenti nelle province di Napoli, Caserta e Avellino. Nella medesima ordinanza è disposto attresì l'obbligo di presentazione alla PG nei confronti di un'altra persona. A Roma, gravemente indiziata di propaganda e isticazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sono attresì in corso una trentina di perquisizioni personali domiciliari ed informatiche su tutto il territorio nazionale.